Ecco, c'è una cosa che non mi va giù, c'è una cosa che non mi va giù e che me la sento qui e devo dirvela anche a voi. Io in questo periodo non capisco più niente, tutto che va come non deve. Una cosa, una cosa però in particolare mi sta davvero qua. Non so voi ma avete notato che in questi anni rispetto a qualche anno fa è cambiata una cosa fondamentale che ti cambia la giornata a seconda anche di come inizi tu la tua giornata, però a partire dalla colazione. Io una cosa che odio sono i biscotti del zuppo. I biscotti del zuppo sono una cosa oscena oggi. Una volta erano qualcosa di divertente, di bello, era piacevole, inzuppavi il biscotto, avevi il tuo attimo di tempo, adesso no, adesso inzuppi il biscotto, si spacca tutto e devi alzarmi, prendi il cucchiaio e non è possibile, non è possibile, pervi tempo, pervi tempo. Il biscotto nel zuppo, una volta ti lasciava il tempo, adesso no. Adesso devi starvi, tieni su e lo mangi con un cucchiaio. È possibile? No, non è possibile, non è possibile no, che tu debba alzarmi e fare così, perché in quanto è che tu debba, che io debba, ok, che tu debbi, ciao Debbie, che lui debba, che noi dobbiamo, quello è il fatto, che poi tutta la collettività ci rimette su questa cosa. È per la lobby dei biscotti del zuppo, fateli bene i biscotti del zuppo. Assaggia anche tu i nostri biscotti del zuppo e non te ne pentirai, hai ben 10 secondi di tempo, dalla pucciata alla imboccata, biscotti del zuppo, vieni con noi. E oggi va così, ne ripariamo da due settimane, ciao. Ciao.